prima di tutto ci tenevo a ringraziarvi perché comunque era un canale nuovo era un canale con un argomento completamente diverso dal solito rispetto a quello che pubblico su internet e ho visto già diversa attenzioni da parte del pubblico tanta curiosità alcuni ci sono anche rimasti male di pronte ad alcune rivelazioni e dato che comunque avete risposto presente sia da subito non potevo far passare tanto tempo tra appunto il primo video di presentazione del canale e il video che avevo promesso in cui vi mostro la mia collezione di carte pokemon allora vi devo dire la verità non sono tutte qua alcune sono anche andate perse altre sono comunque sparse per lo studio non le ho raccolte tutte insieme però voglio raccontarvi questa simpatica storiella di questo raccoglitore che sono riuscito a arrivare fino al 2023 e che avevo perso avevo perso e ho ritrovato di recente soltanto l'altro giorno perché stavo cercando appunto il mio gameboy advance sp per esporlo all'interno della collezione che avevo creato di console non trovando più il mio sp sono stato costretto a ricomprarlo e quindi l'ho acquistato su ebay per una buona cifra e il mio era andato disperso il mio gameboy advance sp con all'interno pokemon verde foglia quindi anche una cartuccia oggi mentre cercavo la webcam per fare effettivamente questo video in cui vi mostro anche le mie carte pokemon ho ritrovato il mio gameboy advance sp guardate qua disintegrato proprio viene dalla guerra quindi in questo momento me ne ritrovo due va benissimo questo è tenuto in ottime condizioni questo invece è completamente distrutto uno è legato ai ricordi uno è legato se vogliamo al collezionismo quindi ho ritrovato anche il mio sp e nel mentre che ricercavo il mio sp all'interno della cantina dove l'ho ficcato il trasloco magari l'ho perso ho ritrovato anche il mio album pokemon delle sauter island non so se avete ben presente che cosa siano le sauter island ma è stata una sorta di edizione pubblicata proprio dal trading card game di pokemon qualche anno fa qualche anno fa ed era praticamente questo raccoglitore meraviglioso che ho ancora in buone condizioni e questo sicuramente è qualcosa di positivo con all'interno la collezione completa di carte che andranno poi formare una sorta d'immagine quindi le immagini delle carte si incastrano e vanno a creare qualcosina di più vi farò vedere nel dettaglio e quindi se siete pronti avete lasciato anche magari un mi piace di supporto e un commento con magari quello che vi aspettate di vedere all'interno della collezione parziale che sono riuscito a portarvi beh possiamo iniziare a cambiare schermata qui c'è charizard come avete potuto vedere anche nel video di presentazione in cui vi ho spiegato vi ho raccontato la storia di charizard quindi diciamo che possiamo metterlo da parte qua invece abbiamo il nostro bel raccoglitore delle sauter island come potete vedere da qui eccolo qua questo è il simbolo delle sauter island e vado subito ad aprirlo per raccontarvi che appunto ci sono queste zone mi pare che siano sei jungle beach si jungle che va a riprendere anche un pochettino per pokemon e per per contesto la seconda espansione del gioco di carte collezionabili e appunto c'è già un piccolo spoiler il cielo la riva del mare e il campo dei fiori quindi tutti questi pokemon poi sono presenti all'interno delle sauter island e sono comunque all'interno di questo raccoglitore non mi ricordo se ho la sauter island completa oppure no adesso andiamo a contarle se ben ricordo dovrebbero essere 18 qualcosa del genere 3 per ogni per ogni arco per ogni area dopo le conteremo allora iniziamo con qualche carta in giapponese che ai tempi erano abbastanza rare a tutte queste carte ovviamente sono prive di perfect size perché ai tempi non non le avevamo anzi per darvi un'idea non so se siete pratici con questi anni qua ma all'epoca le uniche bustine che esistevano erano queste stesse buste del raccoglitore ritagliate e quindi da una busta di raccoglitore ottenevi 9 bustine e queste 9 bustine poi venivano utilizzate anche per mescolare eccetera oggi abbiamo anche le perfect size ne ho un bel malloppo qui da qualche parte quindi l'idea è una volta riorganizzato il raccoglitore imbustare tutte queste carte che sono comunque molto belle sono holo alcune sono holo alcune sono holo reverse come appunto quelle delle sauter island per cercare di preservare un minimo la condizione anche se già qua possiamo notare che blissi comunque purtroppo è abbastanza piegato c'è una piega evidente ma ripeto queste carte hanno la loro età sono sono vecchissime stavo cercando di capire se c'era una data da qualche parte però sono carte che intanto sono di seconda generazione e quando iniziavano a girare beh poi vi lascio immaginare dato che nessuno era in grado di comprendere la lingua asiatica avevano degli effetti che ti inventavi te che casualmente ti facevano sempre vincere la partita e queste carte credo che me le abbia scambiate un mio cugino acquisito di bologna sembra la classica leggenda metropolitana degli anni 90 me l'ha data mio cugino ma in questo caso è vero perché io che vivi in un paesino lui invece viveva in una grande città aveva la possibilità di vedere di conoscere di incontrare più persone e quindi di interagire qua addirittura abbiamo un doppio abbiamo abbiamo un guardolto delle sauter island coperto da tyranitar non so bene per quale motivo ma abbiamo già un pezzo delle sauter island che che è saltato fuori che non pensavamo di avere quindi per il momento questo tyranitar raro di neo non mi ricordo che cosa anche questo bello piegato lo mettiamo da parte iniziamo a contare una due tre quattro cinque sei sono sei delle sauter island vediamo se ci sono tutte questo gengar ex allora vi dico gengar è uno dei miei pokemon preferiti qua comunque andiamo già abbastanza nel recente è una carta abbastanza nuova un layout nuovo perché ecco qua c'è scritto 2004 io per anni comunque ho continuato ad acquistare bustino comunque carte singole su quelli che erano i miei pokemon preferiti e questa credo che sia stata una delle carte che ho sbustato una delle ultime carte probabilmente che ho sbustato e gengar è rimasto all'interno di questa collezione andiamo avanti abbiamo un altro abbiamo un lichitung è un'altra carta delle sauter island dopo magari facciamo un conto fatto bene e qua abbiamo espone umbrion sempre di neo erano pokemon rarissimi una volta da trovare perché comunque immaginatevi che non esisteva internet quindi non sapevamo la tiratura delle carte vera e proprio non sapevamo quante teleografiche erano a disposizione quanti espone umbrion potevano girare quindi una volta che li avevi ottenuti te eri l'uomo il bambino più felice del mondo perché ce l'avevi te li riportato a casa e quindi dovevi cercare anche una sorta di riempitivo di pokédex quindi una volta ragionavamo in questo modo cercare appunto di riempire il pokédex non sapendo che non sarebbero stati disponibili tutti i pokémon nella singola edizione ma che wizard e comunque pokémon company aveva pensato a blocchi di due o tre edizioni per completare appunto il pokédex regionale di riferimento di quell'annata lì poi ci sono queste che sono le carte non mi ricordo come si chiamano expedition quelle con li reader che da noi qua non è mai arrivato ce n'erano un botto una volta era bellissimo proprio collezionare le carte perché c'erano dei disegni meravigliosi qua abbiamo un mary il follo holo reverse stavo dicendo foil ma per pokémon e holo e un altro mary l'è anche qua un mary il promo e poi c'è un gigli puff che se non ricordo male questo gigli puff è uscito da praticamente un cd di canzoni pokemon che girava ai tempi negli anni 90 all'interno del cd ottenevi gigli puff perché all'epoca tra merendine tra appunto cd tra vhs tra succhi di frutta c'erano gadget pokemon dappertutto proprio perché si stava cavalcando la pokemon mania e quindi le ficcavano dappertutto questo grovail non vale niente non so nemmeno perché è stato ficato qua e poi abbiamo un altro ganger che come dicevo uno dei miei pokemon preferiti peccato che nelle carte ci siano veramente poche art che mi piacciono veramente tanto di ganger e vale il discorso di prima è un'altra carta in lingua giapponese è una delle tante carte che poi era arrivata qui da noi scambi di mano in mano poi abbiamo altre carte sempre delle sauter island exeggitor ivisaur raticate bisognerebbe cercare di numerarle ok c'è scritto qua sono 18 quindi magari la prossima volta cercherò di metterle in ordine sempre pidgeot lapras e tentacruel che non vedevate ora vedete insieme a butterfree sono sempre carte delle sauter island i pokemon dark che erano iniziati a circolare con l'espansione di team rocket se le bierone delle carte più ricercate dai bambini a quelletta lì ecco qua abbiamo un'altra carta del sauter island che è stata coperta probabilmente anche in questo caso vediamo un attimo con giovanni spersi infatti c'è onyx al di sotto questa è proprio l'organizzazione di uno che aveva proprio voglia di mettere in esposizione la collezione completa del sauter island però di qua c'era grovail che era importantissimo guai a coprire grovail non si sa perché però onyx e jigglypuff si ci potevano fare assolutamente le carte dei capi palestra sono state meravigliose secondo me iniziavano a circolare degli artwork splendidi tra l'altro questo è un artwork molto bello secondo me di ken sugimori che maestro vero e proprio è riuscito a farci amare a noi ragazzi di quella generazione ancora di più pokemon io tuttora se guardo un artwork di ken sugimori di quegli anni lì avverto una magia diversa differente rispetto a vedere gli artwork di oggi nella prima generazione nella prima espansione set base jungle così c'erano tantissime immagini di stock prese di ken sugimori poi piazzate su uno sfondo a caso e secondo me sono le più belle poi ci sarà un altro video in cui parlerò del set base e poi come potete vedere infatti come dicevo ci sono anche carte che vengono un pochino più dal futuro rispetto a questa espansione infatti anche questo celebi era del 2004 ma dato che era difficile trovare celebi all'interno del tg5 gli anni lì ti dovevi accontentare anche se era differente cercheremo di trovare un nuovo posto per queste carte poi abbiamo ecco qua iniziamo ad andare un pochettino su sulle fossil sulle jungle infatti qua abbiamo wild plum pincer e mac di quelle destini lì addirittura questo mac è di prima edizione peccato che non sia olografica perché mi pare che ci sia pure olografica di quelle edizioni lì prima edizione che sono sicuramente le carte più rare queste invece sono ristampe sono delle unlimited le carte in prima edizione di quegli anni lì hanno subito un'impennata clamorosa ora stanno a tantissimi soldi poi iniziavano esserci alcune carte della seconda generazione di cui iniziavano ad esserci come se fosse ieri ma in realtà non era ieri semplicemente perché io il mio grande ricordo legato alle carte dei pokemon è appunto il set base appunto fossil jungle gli allenatori il team rocket quelle sono quelle sono state veramente le mie carte che sentivo di più poi la seconda generazione quando è uscita sicuramente ha avuto un impatto positivissimo perché per me la seconda generazione è meravigliosa poi magari faremo anche un discorso sulle generazioni singole sui giochi faremo magari delle tier list per farvi capire anche un pochino le mie idee seconda generazione è meravigliosa però iniziavo già ad essere un pochettino più grandicello e ad allontanarmi dal gioco di carte collezionabili non dai giochi magari però iniziamo ad acquistare magari meno bustine infatti ci sono tantissime carte delle primissime generazioni le altre sono arrivate più che altro tramite scambio e ovviamente insieme a le carte anche della terza generazione come può essere questo aggron e poi qua bellissimo che ancora non vedete perché non ero abituato a registrare in questo modo però qua abbiamo magnemite e magneton magnemite che esce finalmente con la seconda generazione anche in abiti differenti rispetto ai soli elettrici infatti di recente ho giocato a pokemon rosso e magnemite di solo tipo elettro che si becca magari delle mosse normali e non sono poco efficaci lì per lì ci rimanevo male poi dicevo a cavolo è vero insieme a magneton di fossil che è stata una carta magneton ristampata olografica in più edizioni perché sia in set base che in fossil è presente un pokemon un po' bizzarro un po' particolare che a quanto pare a quegli anni lì piaceva tantissimo anche qua artwork di ken sugimori questo picciu che era una carta rarissima ai tempi ovviamente baby pokemon erano la grande novità della seconda generazione e pikachu che era un pokemon così iconico sapere che aveva il figlio perché ai tempi non era il baby pokemon ma da noi si diceva il figlio di pikachu beh era qualcosa di meraviglioso poi abbiamo delle carte anche qua un po' più nuove abbiamo addirittura yanmega quindi passiamo alla quarta generazione abbiamo swampert e septile che sono carte nemmeno olografiche forse addirittura che uscivano all'interno dei massi collezionabili perché poi con la terza generazione sempre meno boost e magari si prendevano dei prodotti sigillati come i massi collezionabili che erano già quasi completi quindi probabilmente grovail arrivava da qua girachi stesso discorso per celebi e poi ovviamente girachi che o giraci che dir si voglia era un pokemon molto ricercato io ricordo che possedevo pokemon channel per la gamecube e tantissimi miei amici arrivavano a casa mia attaccavano il loro gameboy advance o advance sp appunto a questa sorta di cavo che arrivava dentro al gamecube e veniva offerto in regalo un girachi che era l'unico modo ottenibile in maniera legit e quindi era un pokemon rarissimo qua l'avevamo psicoacciaio proprio che iniziavano a esserci queste combinazioni proprio come nel gioco originale anche nelle carte poi abbiamo un feraligator che era un pokemon meraviglioso tra l'altro se ricordo bene ci sono due versioni per ogni starter di iotto all'interno di questa collezione questo è un feraligator in italiano non è di prima edizione però è olografico non sembra nemmeno messo malissimo perché poi ovviamente con il passare degli anni prima generazione sono più piccolo e tratto peggio magari seconda generazione ci sto un po' più attento polivrat che arriva anche lui in lingua giapponese ne ho tantissime lingue giapponese poi non si sa perché qui sotto c'è squirtle blastoise venusaur la classica linea evolutiva squirtle blastoise diretto non esiste più venusaur che insieme a charizard che avevamo qui eccoli qua i tre starter riuniti la prima generazione di starter di canto eccoli qua voglio tirarveli fuori e mostrarveli insieme perché sono sicuramente bellissimi anche se sono unlimited e pur sono sicuramente bellissimi provo anche a cambiare un attimo la schermata ditemi voi se esistono carte più belle di queste queste respirano proprio una storia vera e propria queste sono carte che sono passate di mano in mano negli anni 90 tra ragazzini che magari mettevano il mazzo mescolato insieme con l'elastico e poi tiravano fuori l'elastico e buttavano le carte sul tavolo e le scambiavano durante la ricreazione le lanciavano sui tavoli le lanciavano che ne so sul cemento perché si giocava seduti per terra meravigliosi questi veramente hanno una storia questi hanno visto di tutto e adesso sono qui rimangono a casa mia sono custodite gelosamente perché sono dei veri e propri pezzi di storia con le gambe anzi vi dirò di più si meritano subito una perfect size questi che nonostante le condizioni non voglio che peggiorino ancora eccoli qua blastoise e venesaur tra virgolette missi al sicuro inseriamoli nuovamente al loro posto perché è giusto che stiano qui dove si sono ritrovati per tanti anni forse in questo modo adesso siamo anche un po' più comodi con lo sfogliare poi vabbè alcuni pokemon come sidra che nulla hanno a che vedere ma era soltanto per metterci kingdra che in questa versione inedita inedita nel senso che non è la sua prima edizione d'appartenenza era un pokemon meraviglioso infatti l'ho messo di fianco a shizor perché condividono la generazione la seconda generazione erano entrambi evoluzioni di pokemon che avevano già visto in prima entrambi pokemon che servivano tramite scambio entrambi pokemon rarissimi che per ottenere nei giochi dovevi veramente star lì e consumare ore e ore di gioco e quindi sono vicini per questo motivo questo pikachu promo che non ricordo in che occasione veniva consegnato insieme a meganium che per qualche strana ragione è separato rispetto a ferralighetto re typhlusion che sicuramente ci sarà da qualche parte poi abbiamo un salamence così buttato qui a caso pikachu salamence meganium migliori amici da sempre sotto un altro celebi sempre quel discorso che facevamo prima un altro tyranitar e un dragonite promo anche questo dragonite promo sinceramente non ricordo dove veniva consegnato però questo è sicuramente il dragonite del primo film pokemon quello che consegnava le lettere e invitava tutti gli allenatori sull'isola di mewtwo ricordi meravigliosi a quei tempi lì vi voglio raccontare anche una sorta di aneddoto ma a quei tempi lì pokemon aveva contaminato non solo noi bambini ma anche gli adulti io ricordo che mio papà mi aveva accompagnato al cinema a vedere il primo film dei pokemon e il secondo film dei pokemon e tuttora la sua squadra a falta calcio si chiama articuno in onore di uno dei tre uccelli leggendari protagonisti del secondo film insieme a luggia quindi tutto questo è veramente meraviglioso poi abbiamo un flareon un flareon di jungle era la prima edizione in cui iniziavano a uscire le evolution tutte le evoluzioni di ivi erano meravigliose queste carte qua insieme a un toxicrock così a casissimo e un altro gengar proprio per farvi capire quanto mi piaceva un altro polytude polytude è un pokemon che mi piace veramente un botto ma non pensavo fino a questo punto quindi li collezionavo in italiano, in inglese, in giapponese, quello che c'era un Gyarados, un Gyarados del set base distrutto qui sotto veramente pur e poi una carta che è arrivata fino ai giorni nostri vediamo in quali condizioni anche qua probabilmente si merita una perfect size ma qua stiamo parlando di un pokemon shining sembra anche messo in buone condizioni questo si becca la perfect è una volta sistemato all'interno della perfect si becca pure la sua bella bustina perché non possiamo cercare di rovinarlo dato che una carta bella, bellissima come shining a butox credo tra l'altro uno dei shining più belli è arrivato in buone condizioni fino ai giorni nostri non possiamo fare altro che cercare di preservarlo tra l'altro avevo anche shining charizard che mi aveva scambiato uno dei miei migliori amici il mio migliore amico per un mio antico e altre carte non ho idea di dove sia finito immagino che oggi stia a un presto imbarassante poi Hitmonlit e Monchan che facevano la guardia wheezing per qualche strano motivo wheezing era in mezzo forse perché wheezing era il pokemon del team rocket e questo era un rocket Hitmonchan e quindi Hitmonchan e Chatmonlee li ho messi tutti e tre su questa fila probabilmente seguendo questa logica abbiamo i tre uccelli leggendari oh tutti belli lì in fila Zabdos, Moltres e Articuno anche se questo Zabdos non è quello del un Wigletoth così un Wigletoth di jungle sotto, lì sotto così a caso stavo dicendo vabbè non è uno Zabdos di fossil infatti questi sono di fossil Zabdos invece del set base vediamo perché c'è una carta anche qui sotto è un altro Articuno tra l'altro questo è un Articuno prima edizione ragazzi Olo e questo è un Articuno prima edizione non Olo forse questo Articuno qualcosina sta eh questo Articuno qualcosina potrebbe potrebbe valere è questo Zabdos del set base meraviglioso non mi ricordo se usciva in un masso o addirittura c'era un prodotto sigillato della prima edizione in cui trovavi per forza Zabdos io credo di averlo trovato lì dentro anche qua artwork di Ken Sugimori a differenza degli altri due che sono di Arida mi pare sì di Arita e invece Zabdos è di Ken Sugimori infatti è meraviglioso tra l'altro credo che sia l'uccello leggendario più bello anche se in Pokémon GO ero andato sotto il team blu di Articuno mettiamo Zabdos da parte poi cercheremo di trovargli una sistemazione perché Wigglytuff si è messo in mezzo Dugong così a caso Butterfree e e Bidrill vicino dato che sono i due Pokémon rappresentativi di Kanto con le Otteri Hitmon Chan che doveva andare con Hitmon Lee ma a quanto pare era meglio Weezing anche se di qua c'era Arbok quindi proprio una logica fuori dal mondo e Lugia Lugia che è meravigliosa come carta anche se purtroppo è piegatissima era bellissima questa carta perché aveva le tre energie elementali degli uccelli leggendari carta meravigliosa secondo me costa anche qualcosina che purtroppo come potete vedere invece è ridotta in condizioni pessime e poi abbiamo Kangaskhan delle Jungle un altro Pokémon iconico di quella generazione Stratagema pesca una carta un attacco bizzarro che anche nel trading card game comunque utilizzavo spesso nel gioco di Pokémon per Game Boy del trading card game Metagross un bellissimo Pokémon di terza generazione Suicune uno dei cani leggendari meraviglioso pure Suicune Clefairy anche se qui sotto c'è un'altra carta vediamo c'è un Kiklone e quindi va bene Clefairy può tranquillamente stare su Kiklone tra l'altro ne ho due penso di Clefairy un Mewtwo promo con una colorazione un'immagine abbastanza diversa dallo standard al quale eravamo abituati per Pokémon in quegli anni infatti credo sia stato disegnato da da qualcuno che ha lavorato con Metroid sempre all'interno di Nintendo molto molto differente come carta eccolo qua Typholution da solo rispetto ai suoi amici starter di Yoto ripeto non riesco a capirne il motivo Polivrat distrutto disintegrato cioè si sta staccando la carta proprio pur come poche cose nel mondo Masquerain a casissimo proprio e Machamp prima edizione quello che usciva dai massi collezionabili quindi l'unico l'unica olografica del set base ad essere per forza di prima edizione tranne alcuni credo che sono stati sbustati all'interno di un mazzo tematico c'era Machampo Blastoise dove non c'è la prima edizione ma valgono un fottio quindi al 90% l'avrete sempre visto con il volume di prima edizione ma qua non è il discorso che vale di più ultima pagina ultima pagina qua abbiamo il nostro bel Pigeot purtroppo anche questo rovinato Cameropt non so per quale motivo rispettavo questo poco ma non l'idea mi fa proprio schifissimo Giovanni Geridos meraviglioso anche qua ovviamente neanche dirlo art di Ken Sugimori quindi artwork meravigliosa un'energia che cos'è questa energia doppia non mi ricordo doppia energia normale sinceramente non mi ricordo in giapponese quindi non posso saperlo non gioco il gioco pokemon da mille anni quindi fatemelo sapere voi un Latios Ex Latios pokemon meraviglioso di fianco a un Raiquaza buttato lì a casissimo Dragonite delle Fossil Dragonite era un pokemon rarissimo ambitissimo già il fatto che in set base la sua pre-evoluzione fosse rara era qualcosa di allucinante purtroppo purtroppo non in condizioni ottimali a quanto pare poi cercherò di verificare no in realtà sì dovrebbe essere un problema della busta questo quindi potrebbe quasi essere messo bene un Dark Blastoise i pokemon dark dell'edizione del Team Rocket erano meravigliosi c'è questo Blastoise qui c'è Dark Charizard che erano veramente carte delle quali eravamo innamorati da bambini e poi nuovamente un Umbreon questa volta olografico purtroppo piegato che probabilmente qualcosa addirittura dovrebbe valere anche se ripeto in condizioni pur purtroppo ci puoi fare veramente poco di recente però sono passato a casa dei miei genitori oltre a aver recuperato alcune carte di Yu-Gi-Oh tipo queste tre sono le prime tre che mi sono venute fuori ho recuperato anche qualche veramente qualche carta dei pokemon che possedevo e che era rimasta proprio là quindi per dire questo Cleffa sempre il discorso dei figli di non dei baby pokemon non è olografico ecco qua questo fa malissimo fa malissimo perché mia sorella a quanto pare era innamorata di Raichu si è presa il mio rocket Raichu e qui sopra a penna ha scritto Sara T cioè si è autografata ha deciso che era suo oltre ad essere in condizioni pessime perché è piegato piegatissimo oltre ad essere una carta bellissima tra l'altro una fuori serie 83 su 82 c'è una storia dentro questo Dark Raichu l'immagine è meravigliosa è autografata da Sara T quindi non è più mia a quanto pare poi sempre un Raichu un Raichu un pokemon bellissimo per quanto mi riguarda c'è anche nel set base e ve lo mostro adesso perché mi è arrivato proprio l'altro giorno l'ho acquistato e poi vi spiegherò anche il perché l'ho acquistato c'erano ben tre olografiche di Raichu nei primi set proprio perché il pokemon era stupendo poi abbiamo un Kabutops non olografico un altro bellissimo pokemon secondo me abbiamo un Victribel uno Snorlax sempre non olografico un Vaporeon tutte le mie carte di fossil un Giraki che va ad unirsi agli altri un Dark Wild Plume e un Dragonair del set base raro che non è in condizioni eccezionali però sono altre carte che possiedo ultimo ma non ultimo questo Deck Box che arriva direttamente dal passato veramente bellissimo della Wizard di pokemon clamoroso arrivato in condizioni non eccellenti neppure questo sporco proprio storia storissima però al suo interno ci sono alcune carte che avevo messo insieme per una sorta di mazzo credo l'ultima volta che ho giocato al gioco di carte collezionabili pokemon con gli amici mazzo a casissimo con Clefairy olografico senza bustare mi viene male a vedere dopo le imbusto tutte un altro Tyflution quello nell'altra versione ditto Victini dei Victini a casa a caso dei Charizard anche se rovinatissimo rovinatissimo un Dark Charmeleon altri Charmeleon a casa a caso perché dico a casa a caso dei Charmander un Moltres X un Arceus Reshiramex Rotom Calore Regigi forse queste non sono nemmeno mie probabilmente queste più nuove sono proprio di mia sorella però si merita che ce le abbia io perché lei mi ha autografato Raichu alcuni addestramenti tipo Bill illegalissimo pesca due carte robe a caso queste qua devo dire la verità robe molto molto a caso questa che era addirittura rara quando la trovavi nelle bustine bestemmiavi qualsiasi cosa perché volevi trovare il tuo bellissimo pokemon olografico ecco ho alcune carte in francese perché all'epoca un amico di mio papà era andato a lavorare in Francia e mi aveva portato a casa tantissime buste del set base in francese e quindi da qualche parte ci sono un botto di carte in francese per questo motivo le Delta Special erano meravigliose perché i pokemon cambiavano il loro tipo quindi avevano un tailo di tipo fuoco quindi ovviamente che fai non lo metti all'interno del mazzo fuoco Swellow dello stesso tipo altri starter perché era un mazzo praticamente starter fuoco delle prime generazioni questo Charmander è molto bellino tra l'altro altri Charmander altri altri Syndaquil questo Blaine Charmander meraviglioso per l'artwork di Sugimori sempre peccato che sia in condizioni da macello un botto di Charmander veramente tanti Charmander e poi delle energie un altro Syndaquil e tantissime energie tutte nuove tra l'altro tutte nuove e un Jinx un Jinx fuoco perché non possiamo mica farci mancare Jinx fuoco che è proprio il suo tipo preferito il suo tipo rappresentativo è proprio il tipo fuoco e quindi queste sono bene o male le carte che ho in giro per casa in questo momento ripeto ce ne sono altre e ve le mostrerò però in un altro video è venuto fuori un video lungo vi chiedo scusa non pensavo e invece siamo andati purtroppo per le lunghe spero che comunque vi sia piaciuta questa sorta di collezione questa sorta di tuffo nel passato di quello che è arrivato anche ai giorni nostri purtroppo ci sono tante cose che sono andate perse fatemi sapere la vostra a quest'ultimo nei commenti fatemi sapere se anche voi avevate alcune di queste carte se vi ritrovate nel fatto che tante carte siano andate perse tante carte siano arrivate ai giorni nostri in condizioni pessime e noi ci vediamo con un prossimo video che potrebbe essere sempre sul trading card game oppure potrebbe essere o una tier list dei pokemon in prima generazione o uno dei due video che ho in programma su pokemon rosso ci sono tantissime cose da dire io sono luca e questo era retro ciao 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 Grazie a tutti.